Ben trovati in diretta approfondimento di quest'oggi dedicato alla salute, in particolare parliamo di disagio giovanile, quindi l'importanza di saperlo riconoscere e trattare e affrontarlo. Ne parliamo in compagnia del mio ospite, in studio con me il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Buongiorno e ben trovato. Grazie di esserci tornato a trovare. Allora partiamo da questo fatto di cronaca di cui abbiamo dato conto durante i nostri telegiornali, uno studente 23enne che si è tolto la vita lanciandosi dall'undicesimo piano di un palazzo a Padova. Difficile capire cosa possa star dietro, quale disagio possa star dietro a un gesto così estremo, dottore? È estremamente difficile, adesso abbiamo veramente pochi elementi e purtroppo quando cadono questi fatti è un po' come vedere l'ultimo fotogramma di un film al cinema, no? Quindi non si può capire cosa l'abbia spinto o da quanto tempo magari stesse covando o maturando questa sofferenza che sicuramente c'è alle spalle, no? Perché dobbiamo parlare della sofferenza. Queste sofferenze purtroppo sono sempre più diffuse e dobbiamo anche un pochino allenarci tutti se possibile. Se la società comincia a cooperare tutta quanta, riusciamo a prevenire forse qualcosa in più. Stando anche al fatto che l'OMS ci ha già detto che entro il 2030 la depressione sarà solo il secondo disturbo al mondo, dopo i disturbi cardiovascolari. Quindi dobbiamo tener conto che molte situazioni possono arrivare sotto ai nostri occhi o vicine e forse facendo rete qualcosa di meglio lo riusciamo a fare. Qui chissà, oltre a un aspetto depressivo, può darsi ci fossero anche delle altre situazioni di tipo traumatico, irrisolto piuttosto che difficoltà familiari o magari dico una sciocchezza, può essere anche una famiglia molto supportiva ma c'erano degli altri motivi, piuttosto che i disturbi psicotici dell'area delle psicose di cui si parla sempre poco, c'è vergogna e timore magari anche da parte delle famiglie spesso a dire mio figlio o il parente o la persona vicina questa o quella problematica piuttosto che situazioni in cui scopriamo dei deliri che sono appartenenti a una persona da lungo tempo ma magari i familiari sono reticenti, non hanno il coraggio di dire e quindi le ipotesi che possiamo fare sono veramente tante. Poi purtroppo quando arriva il gesto estremo cala un silenzio importante di sofferenza per tutti perché in fondo tutti pensiamo ma quella situazione lì poteva essere presa prima, potrebbe essere il mio parente, chissà se mio figlio, chissà se la persona accanto a me sta bene davvero, sta male, si crea anche un po' di paura generalizzata. Spesso dobbiamo dire questo, magari non si legge necessariamente nei giornali ma le situazioni non nascono dal nulla, anzi direi sempre sostanzialmente i casi in cui ci sono dei comportamenti drammatici improvvisi sono veramente pochissime. Le questioni nascono, crescono col tempo, può essere casomai che vengono mascherate in qualche modo o che un giovane ma anche un adulto spesso ma anche un anziano perché c'è anche questa problematica sulla popolazione geriatrica, può essere che queste persone non manifestino semplicemente e quindi si rimane un po' disarmati davanti a quello che è l'esito di tutta una vita di pensieri negativi, di sofferenze o chissà. Sembra non essere il caso di questo ragazzo ma il pensiero dello studio, degli esami, di una tesi da portare a termine, di un percorso universitario da dover concludere, può essere davvero così forte, così stressante da portare poi a gesti come questo? Non sarebbe la prima volta chiaramente. Questo apparentemente sì, perché è un evento stressante, ma dobbiamo tener conto di tutti i fattori predisposizionali della persona, cioè tutto quello che ci predispone o meno ad affrontare lo stesso evento identico a persona A e persona B affrontano lo stesso evento. La persona A può avere una preparazione che può essere tolleranza alla frustrazione, ha imparato dalla famiglia come affrontare le situazioni difficili, non viene spaventato dall'idea del futuro che spesso nelle persone ansiose è un po' il timore di concludere il ciclo di studi, piuttosto che relazioni sentimentali che vanno male. Ecco, la persona A che stiamo inventando è la persona che ha un retroterra familiare che lo ha preparato un po' ad affrontare le difficoltà. La persona B è la persona che in qualche modo non ha potuto fare quelle esperienze formative, pregresse, tra cui la tolleranza e la frustrazione di cui tanto poco si parla purtroppo e quindi quell'evento lì diventa un evento che va a rendere estremamente vulnerabile la persona. Quindi può diventare sì un motivo certamente come diceva lei di grande difficoltà, ma a patto che però prima ci sia stata questa predisposizione allora creiamo un matching estremamente negativo per la persona. Lo stress universitario sicuramente c'è, ma non è l'unico, la vita può essere contornata di tante belle cose, ma anche di molti stress. Questi stress non fanno altro che metterci un po' in difficoltà sulla nostra capacità di superarli e sulla nostra capacità di affrontare eventualmente il fallimento. Un fallimento per la persona svantaggiata diventa il fallimento totale della persona. Che ancora sembra non essere concepito nella nostra società, il fallimento, non riuscire, non arrivare. Assolutamente. La nostra società, che poi siamo noi, la società siamo io, lei e tutti quelli che stanno ascoltando, ma diciamo viene promossa apparentemente la questione dell'essere sempre vincenti, sempre migliori. Non accettiamo più di essere intermedi o forse anche i peggiori su qualcosa, ma essere peggiori di qualcosa in fondo non danneggia nulla di noi. E se questo viene, come dire, è un percolato che comincia a intessere un'idea della famiglia, dei figli e di tutti quanti sul fatto di non poter fallire, questo è già il fallimento della famiglia purtroppo. E quindi dobbiamo cercare di supportarci anche vicendevolmente, anche attraverso i social eccetera, con un'idea che si può sbagliare a questo mondo. Non dobbiamo essere tutti il primo. Lei parlava poco fa delle frustrazioni. Siamo poco capaci, i giovani di oggi sono poco capaci a saperle affrontare, a saperle prendere per le corna e appunto arrivare anche alla consapevolezza che a volte si può sbagliare, si può non arrivare, si può non farcela, ma non deve essere un motivo di abbattimento. Certo, questo purtroppo è un aspetto che stiamo riscontrando tantissimo, come ha detto i lavori. È vero che c'è anche una parte di giovani che hanno famiglie supportive, i cui messaggi educativi sono chiari, non sono ambigui, che capiscono e riescono a discernere quelli che sono i messaggi della rete e da ogni altra parte buoni e da quelli no. Però tendenzialmente c'è una sorta di sacca importante di giovani che fanno veramente fatica ad affrontare i fallimenti, perché percepiscono come un carico sulla loro essenza, sul loro essere una persona di fallimento globale. Questo è dovuto a diversi fattori, si stanno ancora studiando perché ci sono molti nuclei di ricerca attivi per capire questo. Tendenzialmente qualcuno dice anche che siamo ancora figli delle guerre, per quanto le guerre possono portare poi una diversificazione delle problematiche da una generazione all'altra. Però stiamo disabituando un po' i nostri ragazzi a guadagnarsi le cose, a far fatica, ad avere un obiettivo che richiede non un minuto o tutto subito, ma magari anche anni di lavoro e tanti inciampi. Se noi non abituiamo, non educhiamo i nostri figli a questo, poverini, loro si troveranno nella situazione che si sentono assolutamente schiacciati da una cosa più grande di loro, che è la fatica, il fallimento che sicuramente incontreranno. E attenzione, non facciamo l'errore che togliendo le frustrazioni nell'educazione dei figli pensiamo che diventino più forti, perché è esattamente l'opposto. Più li rendiamo narcisi di se stessi e meno riusciranno ad affrontare e a tollerare anche un semplice no da parte di qualcuno. Non vuol dire che dobbiamo diventare neanche troppo frustranti, ma sicuramente l'equilibrio tra le due cose produce serenità ed è quella parola magica che manca molto al giorno d'oggi. L'equilibrio sappiamo che è difficile da raggiungere anche in questo caso. Ricordo ai nostri telespettatori che siamo rigorosamente in diretta, quindi se volete telefonarci per una domanda, una curiosità da porre al dottor Canile, numero 04221628332. Dottor Canile, chiedo un commento anche su un altro fatto di cronaca che in questi ultimi giorni sta un po' sconvolgendo anche per il retroscena che stanno emergendo. Questa strage in famiglia nel milanese di qualche giorno fa, un ragazzo di 17 anni ha ucciso il padre, la madre e il fratellino. Anche in questo caso è molto difficile capire che cosa si nasconda dietro a un delitto così efferato. Campanelli d'allarme ce ne possono essere, come vanno trattati, come ci si accorge che c'è qualcosa che non va. Anche perché quello che emerge è spesso un ritratto di una persona a postumi che è assolutamente tranquilla, serena, una persona che non desta preoccupazioni. Ecco, quindi come accorgersi che c'è qualcosa che non va in un ragazzo, in un giovane? Allora, chiaramente non possiamo parlare del caso specifico perché ne sappiamo ancora così poco, però ecco, io dico questo e penso che qualsiasi collega psicoterapeuta o psichiatra possa condividere, cioè sicuramente c'è un aspetto di tipo psicotico dietro questo, ma non per dare una brutta etichetta, non è un giudizio, ma è un atto comprensivo verso un ragazzo che in grandissima probabilità ha manifestato una chiusura eccessiva, una rabbia eccessiva o dei sentimenti magari anche strani, bizzarri che non sapevano come interpretare, piuttosto che, per quanto ne sappiamo, una situazione che potrebbe anche essere nota magari all'istituto scolastico, alla famiglia e che magari non è stato dato il giusto peso. La prevedibilità, vede, è una cosa difficile, però normalmente abbiamo sempre dei segnali. Allora, senza pensare che i figli che magari sono un po' introversi e chiusi diventino degli assassini, diciamo questo, stiamo attenti a tutti i comportamenti un po' particolari, che vediamo che magari sono un segno di non tanto equilibrio, poca serenità, poi in adolescenza sicuramente c'è un disequilibrio per natura, ma ecco le eccessive chiusure, piuttosto che la rabbia eccessiva o magari a volte i ragazzi che vediamo si rifugiano un po' nell'uso delle sostanze, che mi permetto anche di fare un piccolo inciso, ecco l'uso delle sostanze è importante nei giovani, una ricerca recente di un istituto torinese ha stimato che i giovani tra i 16, tra i 15 e i 34 anni che hanno usato o usano abitualmente sostanze dovrebbero essere circa 17 milioni, è un dato preoccupante perché sostanzialmente vuol dire quasi tutti, il ricorso alle sostanze in questo momento è quasi legittimato a livello di sensazione individuale e quindi anche lì bisogna capire quanto queste sostanze alterano nel momento dell'utilizzo, fuori dall'utilizzo, perché attenzione molti cannabinoidi al giorno d'oggi producono psicosi paranoidi anche fuori dall'utilizzo, piuttosto che il motivo per cui il giovane la utilizza, allora si parla di un uso ricreativo ma francamente io ci credo poco, nel senso che l'esperienza mi ha dimostrato che in fondo l'utilizzo di un additivo esterno che mi dà quella sensazione è perché a me manca, altrimenti non userei quella sostanza, questo è un po' il ragionamento che sta di base, quindi tutto questo insieme di situazioni bisogna un po' come dire cercare di attenzionarle e come genitore provare a capire cosa ci sta dietro quello, perché non è necessariamente l'alcol, la sostanza o anche il delirio su un ragazzo psicotico piuttosto che altro, ma è quello che sta dietro, perché quel ragazzo è arrivato a sviluppare quei dati sintomi, questa è la domanda. Certo però comprendere i bisogni di questi ragazzi è sicuramente complesso, io credo per un genitore, per un insegnante, per un amico, per le istituzioni anche o per la società, se vogliamo allargare lo sguardo. È difficile, è difficile perché purtroppo al giorno d'oggi ci sono mille scappatoie dietro le quali nascondersi, ad esempio anche un malutilizzo dei social piuttosto che della tecnologia, piuttosto che l'isolamento, la non visibilità, siamo passati da un utilizzo delle piazze come luogo sociale di aggregazione, al giorno d'oggi le piazze sono sostanzialmente vuote di giovani, non è il punto d'incontro e i punti d'incontro sono per lo più virtuali e questo chiaramente ci penalizza sulla possibilità di vedere, di assistere, di capire, quindi dobbiamo essere ancora più bravi a interpretare o magari a parlare, a instaurare sempre una comunicazione con i ragazzi. Non so se lei è d'accordo su questa cosa, ma guardando un po' i giovani vedo che ci sono tantissimi ragazzi riservati e quindi è difficile capire che cosa stiano attraversando e dall'altra parte ci sono dei ragazzi invece che esprimono molto bene insomma anche le proprie sensazioni, però come appunto detto ci sono anche quelli che tacciono il proprio malessere e lì è difficile tirarlo fuori. È difficile perché in fondo facciamo fatica a interpretare il pensiero puro, quello che noi interpretiamo in genere è il comportamento che ci dà un qualche segnale, imparare a comunicare con i nostri figli è qualcosa che potremmo immaginare come infinito, possiamo sempre migliorare un po' la comunicazione e noi per primi con se stessi, al di là del ruolo che può essere un ruolo educativo, può essere l'insegnante e gli insegnanti si stanno molto formando in tal senso, ma anche proprio come genitore, un genitore che riesce a capire un po' meglio i propri comportamenti, i propri vissuti sicuramente riesce a entrare un po' di più in comunicazione, ci sono dei ragazzi estremamente introversi che provano vergogna, che provano senso di colpa, che provano disagio nel cercare qualcosa di positivo per loro, paradosso, paradosso che una volta era rarissimo, adesso è molto più frequente, ma citiamo anche l'Iquicomori, quella sindrome di isolamento estrema che viene dall'estremo oriente, ma che sembra cominciare a colpire anche i nostri territori europei, qua ci sono sicuramente valori culturali diversi, però quel tipo di isolamento è sicuramente indice di una profonda sofferenza, quindi aiutiamo anche quei casi lì e poi ci sono tutti i casi intermedi invece, in cui abbiamo magari dei ragazzi o delle ragazze ovviamente un po' più introversi, magari che possono avere una parte di vita un po' di isolamento, ma un'altra anche di socialità e quindi lì come dire non è necessario preoccuparsi, ma comunque tenere un pochino l'attenzione che non evolvano in un isolamento troppo estremo. A volte dietro l'isolamento, facciamo anche una piccola citazione, spesso c'è un trauma, dove un isolamento, un auto isolamento che si procura a un ragazzo o anche un isolamento dagli altri, spesso dietro ci può essere una situazione traumatica irrisolta e che questi ragazzi hanno tacciuto, non hanno raccontato e quindi vivono con continuo malessere. Spesso i traumi ad esempio da abuso o da molestie vengono vissuti dai ragazzi come un senso di inadeguatezza del sé, non come una rivalsa sulla persona che ha compiuto il gesto. Qualcuno si ha anche questo tipo di sentimento, ma per la maggior parte va a colpire l'autostima del ragazzo. Potrebbe essere utile e in Italia non è obbligatorio la presenza di uno psicologo a scuola, perché mi sembra che l'esigenza ci sia, ma forse i finanziamenti no e nemmeno la cultura forse di questo. Assolutamente voto a favore di questa cosa, perché prima riusciamo a intercettare le situazioni di disagio e meglio è. Quindi lo psicologo scolastico secondo me sarebbe un valore aggiunto enorme in collegamento sia con i privati, perché la psicoterapia sostanzialmente in Europa avviene molto più spesso privatamente, ma anche col pubblico ovviamente che tanto si occupa di queste situazioni. Quindi creare uno psicologo scolastico, cioè uno psicologo della scuola che crea una rete con i servizi, con i privati, con tutti gli attori della cura sarebbe fondamentale. Io penso che se fosse possibile cambierebbe decisamente l'andamento delle cose, soprattutto posto il fatto che l'OMS, come dicevo prima, purtroppo ci ha già dato una stima e ahimè non si sbagliano mai, o almeno negli ultimi 40 anni le stime che hanno fatto sono sempre state quelle, soprattutto nell'ambito del disagio mentale. Anche probabilmente, tornando allo psicologo scolastico, per intercettare una dipendenza, come dicevamo prima, da sostanze. Spesso la scuola, il gruppo di amici è il primo luogo in cui i ragazzi entrano in contatto con le sostanze per provarle, ma con la consapevolezza, probabilmente la certezza di provarle in un primo momento e di saper smettere quando si vuole, che spesso si rivela non essere così corretta come percezione. Certo, poi questo è molto corretto. Sicuramente ci sono molti insegnanti, lo ripeto, molto bravi, molto attivi che vanno a segnalare i servizi, che vanno a segnalare ai privati che hanno in cura magari i ragazzi o alle famiglie, questo aspetto. I ragazzi io trovo che abbiano una scarsa consapevolezza di quelli che sono i rischi dell'utilizzo di queste sostanze, ma ormai parliamo anche poco delle sostanze tradizionali, parliamo di tutte quelle nuove, sintetiche, in cui la ricerca fa veramente fatica a stare al passo con i tempi, perché ne inventano, faccio per dire, una al giorno. E che sono anche facili da reperire, ahimè anche sul web alcune? Anche su web, sotto false spoglie, li vendono come profumatori d'ambiente piuttosto che giochi e confezionati e spediti. Qua io non ho dubbi che la Guardia di Finanza e le Forze dell'Ordine stiano facendo un grandissimo lavoro, ma purtroppo non è sufficiente, dobbiamo cercare di essere anche noi, di creare una maglia di questa rete un po' più stretta e sicuramente, una presenza di un clinico o di una clinica all'interno di una scuola, beh, insomma, io credo farebbe molta differenza. Lei tra l'altro ha diverse collaborazioni con aziende sanitarie e in particolare con il SER, di Servizio Dipendenza. Che cosa osserva un aumento dell'utilizzo di queste sostanze nei giovani? C'è un fenomeno strano che si legge anche in letteratura, no? Sembrerebbe che l'aumento, stando ai dati, dell'utilizzo di sostanze ci sia e sia anche molto importante. Poi, sull'afflusso o sul fatto che un giovane possa chiedere aiuto ai servizi, qua si crea un po' una discrepanza forse e quindi i dati rischiano di essere molto imprecisi. Sicuramente lo spirito che osserviamo anche proprio a livello psicoterapico, negli studi privati, nei centri, altri, è uno spirito molto poco consapevole e di un utilizzo ricreativo, leggero, no? Però le sostanze che loro vanno ad utilizzare, chi più chi meno, alcuni giovani per un motivo, alcuni per un altro, sono sostanze che possono danneggiare seriamente e su questo forse andrebbe fatta un po' più di luce. Tra l'altro, diciamo anche questo, tutto l'aspetto della cura che viene fatta a livello psicoterapico negli studi privati, spesso non rientra in nessuna statistica e quindi questa è una problematica importante che già ad esempio gli Stati Uniti hanno affrontato, perché anche lì tendenzialmente c'è un utilizzo privato dello specialista, ma come può essere anche l'odontoiatria banalmente, per cui forse è il caso di cominciare a coinvolgerci come specialisti privati che lavorano privatamente in una rete di dati, che altrimenti orientano poco sia l'aspetto delle cure, ma anche quello proprio della conoscenza dello stato dell'arte e quindi questo ci darebbe sicuramente una chance in più. Lei dice che c'è una fetta che non fa statistica perché si rivolge al privato e non magari ai servizi messi in piedi dalle aziende sanitarie e che appunto non fa statistica, non emerge e quindi probabilmente l'entità di questo contesto potrebbe essere anche più ampia. Potrebbe essere una visione parziale, sicuramente e quindi forse, insomma lanciamo un'idea anche ai vari ordini, cercare di integrare e di creare dei dati ad hoc attraverso tutti quelli che sono i percorsi di cura privati sarebbe molto interessante, quello ci darebbe il polso della situazione, ci darebbe una fotografia attuale di quello che sta accadendo e sulla base di quello magari riuscire a dare delle risposte diverse, tra cui ad esempio l'intercettazione precoce di alcuni disturbi, il coinvolgimento di altre figure, quindi tutto quello che può indirizzare ad un percorso poi clinico i nostri giovani. Vorrei toccare con lei un altro tema che riguarda sempre i giovani che ahimè insomma anche questo è in larga diffusione e sempre più precoce ed è il tema dei disturbi alimentari, ne parliamo spesso anche nei nostri approfondimenti perché davvero si è visto un esordio precoce, si sta vedendo, si sta osservando un esordio precoce, addirittura ragazzine, perché insomma la predominanza femminile che manifestano questi disturbi di anoressia, bulimia già a partire dai 7-10 anni, è un dato assolutamente preoccupante perché proprio si sta vedendo un'esplosione di queste patologie e di questo disagio. È molto preoccupante questo abbassarsi della soglia di accesso ad alcune patologie, questa era una cosa di cui si parlava già in Francia alcuni anni fa, dove anche questa problematica è particolarmente importante. Allora c'è da dire questo, sicuramente dobbiamo tener conto che il supporto alle famiglie o la correzione di qualcosa che non è avvenuto come doveva è fondamentale, non possiamo pensare di curare un ragazzino o una ragazzina, apriamo parentesi, sta toccando molto anche il mondo maschile questo disturbo che fino a 20 anni fa era quasi appannaggio esclusivo del femminile, qua senza un supporto con la famiglia, ma anche per gli altri casi si riesce a fare ben poco, perché se no tendiamo un po' a inquadrare che sono i ragazzi che hanno un disturbo e un difetto, ma il difetto dei nostri ragazzi vuole dire che in parte è anche il difetto nostro, questo è tanto difficile da ammettere, perché siamo una società che un po' si muove solamente sugli aspetti narcisisti e ammettere che si può aver compiuto qualche sbaglio, qualche disattenzione, non stiamo incriminando noi genitori nel dire questo, mi metto dentro anch'io, stiamo solo dicendo che c'è qualcosa da correggere ed è meglio farlo oggi piuttosto che domani. Su questi disturbi ci sono anche tanti centri che si sono specializzati, anche qui l'intercettazione precoce sicuramente è un'ottima cosa, ancora prima dell'intercettazione precoce, prima che nasca il seme di un disturbo, lavorare con le famiglie e provare a correggere sarebbe il massimo, perché allora ridurremo tutti quei disturbi che poi invece nascono dal seme che viene involontariamente messo e che poi frutta. Il discorso delle responsabilità è sempre un argomento molto scottante, ma non possiamo più nasconderci dietro il fatto che come società e quindi come anche singole persone ci stiamo muovendo in una direzione che danneggia i nostri giovani. Ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, ma poi torniamo su questo perché credo che meriti un approfondimento dedicato. Qualche minuto di pausa, rimanete con noi, a tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta insieme al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeutica, perché stiamo parlando di disagio giovanile, quindi l'importanza di riconoscerlo e di affrontarlo. Dottor Canil, siamo partiti da alcuni fatti di cronaca per poi parlare di utilizzo e abuso di sostanze da parte dei giovani, di disturbi alimentari, abbiamo anche toccato il tema delle responsabilità, il tema dei genitori, spesso arrivano da lì alcune problematiche che si sviluppano nei giovani, che cosa possiamo approfondire su questo? È un tema estremamente delicato, perché quando andiamo a toccare un eventuale senso di colpa che alcuni genitori possono aver già sviluppato, è chiaro che se parliamo di responsabilità diventa un po' come toccare una ferita aperta. Allora è sempre importante, come si diceva prima, andare a coinvolgere la famiglia, ma anche tentare di lavorare proprio con i genitori in modo da riuscire a risolvere prima di tutto quello che può essere e può esserci facilmente un conflitto dei genitori, ma anche proprio proprio o con i propri genitori piuttosto che di coppia, ci sono vari livelli di questo. Alcuni genitori purtroppo non accettano questo proprio nel trattamento psicoterapico, nel lavoro con la famiglia, ma a volte anche tendono a interferire in modalità negativa anche con un medico psichiatra che prescrive qualcosa piuttosto che un'equip che si sta prendendo cura dei figli. Cosa possiamo fare? Lanciamo un invito a questi genitori che magari percepiscono di avere qualche nodo irrisolto dentro di loro, io dico provate a sciogliere il vostro, perché anche i dati a disposizione ci dicono che spesso sciogliendo il nodo dei genitori, senza un lavoro specifico va a sciogliersi qualche nodo anche nei figli, facciamo un esempio, ad esempio i disturbi d'ansia che sappiamo benissimo che sono proprio tramandabili, che sono una trasmissione transgenerazionale, ad esempio quelli si possono risolvere eventualmente con poco o se già come genitori andiamo a vederseli, piuttosto che altre questioni familiari che alcuni psicoterapeuti hanno messo estremamente in luce negli anni passati, diventano proprio una trasmissione anche involontaria e soprattutto anche senza un verbale, quindi senza comunicare quello che è il trauma di una generazione, può diventare un trauma involontario della seguente, perché in qualche modo i tabù possono essere comunicati solo col comportamento, solo col non verbale e quindi tutte queste situazioni non pensiamo che evaporino e che spariscano nell'aria, tendenzialmente quello che una mamma o un papà prova in qualche modo passa, tutto sommato meglio parlarne apertamente, una banalità, uno può dire guarda sai a me è successo così e colà per cui io ho paura dell'acqua, che ne so, faccio un esempio a caso, meglio dirlo, meglio comunicarlo perché allora i figli possono capire e non tramandiamo una fobia che altrimenti il non detto diventa sempre più grande di quello che è detto, perché nella fantasia si alimenta. Questo su una cosa piccola, lo stesso avviene nel grande e quindi anche eventualmente su traumi importanti, quando i nostri figli sono in un'età in cui possono cominciare a capire, meglio comunicare quello che si può comunicare, perché poi non è detto che tutto si possa dire, ogni età ha una sua capacità recettiva e meglio ancora se un genitore riesce a fare un po' di pulizia dentro di sé, prima di tutto per il proprio benessere, poi non possiamo che dare il meglio ai nostri figli così. Sul tema della comunicazione c'è arrivata una domanda da casa e una mamma ci scrive che suo figlio di 11 anni l'altro giorno l'ha un po' spiazzata dicendole molto seriamente chiedimi come sto, questa richiesta da parte del figlio e questa mamma ci scrive io penso di essere sempre stata presente e premurosa, questa sua richiesta di mio figlio può significare che forse non lo sono stata abbastanza, già il fatto di porsi questo interrogativo è una cosa buona, credo. È una cosa buona di per sé, allora invitiamo questa mamma senza paura a fare questa domanda alla persona che può avere la risposta migliore del mondo che è il suo figlio e quindi se lei è un po' coraggiosa questa signora, chiede al suo figlio questa cosa, suo figlio gli risponderà, magari non subito, magari può darsi che gli dica no, no, ma dopo un minutino che ci parla forse viene fuori il motivo e magari là si scoprono delle altre cose, ma sempre invitando i genitori a non aver paura, non è un fallimento totale e se fosse anche un piccolo fallimento ma lo risolvono si apre una strada che è sicuramente fatta di una buona comunicazione, di una serenità, la miglior prevenzione del mondo è la famiglia. C'è un po' un problema di comunicazione all'interno delle famiglie, no? Soprattutto tra gli adulti e i più piccoli. Questo si riscontra, molti giovani dicono gli adulti sono pieni di cose da fare, io non voglio ridurmi così, io non sono la generazione del fare, sono la generazione dello stare e io dico attenzione però, perché noi adulti dobbiamo imparare a fare un po' meno e a stare con loro e magari i giovani è bene che si attrezzino, alcuni giovani e non tutti, che si attrezzino quelli che dicono che vogliono stare solo sullo stare e anche un po' a fare, perché lo stare di per sé senza obiettivi non produce benessere o serenità, produce vuoto e il vuoto è pericoloso perché facilmente i batteri della depressione, non è batterica la depressione ma è una metafora che uso, lì si annidano. Certo. Lei poco fa ha parlato di ansia e stress, in questi giorni c'è il ritorno sui banchi di scuola, insomma per chi prosegue un percorso e per chi lo inizia e insomma anche riprendere i ritmi non è proprio un gioco da ragazzi, sia per i piccoli studenti ma anche per i genitori mi viene da dire, questo insomma può causare un po' di ansia e stress, qualche consiglio dottore? Allora sicuramente è un periodo di ansia e stress per ambedue, quindi sicuramente i ragazzi che riprendono le loro attività, che sbuffano, però sono anche contenti magari in parte di vedere i loro amici, di tornare in un contesto classe, che in fondo la classe rappresenta una seconda famiglia, spesso dove vivono, dove si emozionano, dove imparano, dove disimparano anche qualcosa, ma diventa un po' il teatro nel quale avvengono le cose, quindi incoraggiarli un pochino a dire dai, però vedrai che ci sarà anche un piacere dello stare in questo e per i genitori insomma diventa un po' il riprendere un'attività circolare, quotidiana che si interrompe solo il sabato e la domenica, però in fondo dobbiamo pensare che ogni giorno noi stiamo costruendo un mattoncino del loro futuro, inventandoci un modo di stare con loro, di comunicare, di fargli passare bene il messaggio che è importante che studino, che si prepari, imparino, imparino. Tutto questo va a finire ovviamente sul loro futuro prossimo e quindi sulla loro capacità di realizzarsi, di trovare dei partner adeguati con cui vivere, oppure no, chi lo sa, ma comunque di costruire ciò che desiderano. Il desiderio al giorno d'oggi purtroppo è in via di estinzione grave, il desiderio è un motore importante per l'essere umano. Oggi è tutto più a portata di mano e quindi non si fa neanche in tempo probabilmente a desiderare un successo, un qualcosa, una meta. Demo sia una truffa ideologica, quella che ci porta a pensare che tutto subito è bello, perché sì, alcune cose sì, ma altre dobbiamo costruire col tempo e l'essere umano senza il fattore tempo è spacciato. Se noi torniamo il fattore tempo a un essere umano, l'essere umano se lo inventa di sana pianta, abbiamo bisogno di uno scandire e a volte lo scandire è fatto anche di un'attesa. Se i nostri prossimi giovani non imparano a stare anche nell'attesa e a costruire comunque qualcosa di bello nell'attesa, noi è come se li togliessimo l'involucro protettivo, tenderebbero come a confondere l'idea dell'attesa come il nemico, invece l'attesa è il tempo che serve per costruire qualcosa. Per tollerare l'attesa dobbiamo tollerare la frustrazione e torniamo al punto di partenza. Questo tutto subito in contrapposizione netta ai nostri nonni o bisnonni che hanno atteso una vita a qualcosa che forse non è neanche mai arrivato. Quindi stiamo un po' esplorando i due poli opposti ed estremi di un modo di vivere, ma che non fa bene ne uno ne l'altro. Frustrazioni che a volte possono esserci, insomma una persona può provare questa sensazione, un giovane anche per la proiezione che i genitori fanno su di lui e quindi le aspettative, il tema delle aspettative. Ne abbiamo parlato spesso, ma anche questo è centrale, perché forgia proprio il carattere e il modo di essere. Bravissima, perché proprio di proiezione si tratta. È molto difficile che un genitore che ha delle proiezioni negative possa avere un figlio con proiezioni molto positive o perlomeno a volte troviamo proprio un cambiamento per contrasto da una generazione all'altra, però poi dobbiamo monitorare che quel giovane quando comincia a avere 30 anni non comincia ad adottare la modalità dei genitori negativa, perché in fondo crescendo non è più in una fase di controrisposta genitoriale, ma costruisce la sua vita e potrebbero facilmente tornare in mente le frasi della mamma, del papà che dicevano che tutto è difficile, tutto è brutto, ad esempio. Quindi non sottovalutiamo come in fondo noi contagiamo i nostri figli, basti pensare a una sciocchezza, vi sono dei modi di parlare che i bambini acquisiscono già 3-4 anni e prendono dai genitori, il più semplice è l'accento e pensate, così come il cervello, il nostro sistema nervoso centrale si influenza sul modo di parlare, figuriamoci su tutto il resto che è un po' più invisibile e quindi le aspettative, quindi il modo di porci verso gli altri, l'idea che abbiamo degli altri, gli altri sono nemici, sono amici, li percepiamo in un modo o in un altro, un mondo di colori e sfumature che noi trasmettiamo ai nostri figli. L'aspettativa anche è che il proprio figlio sia bravissimo a scuola, che viene proiettata sul più piccolo e che però poi può portare a un fenomeno che anche questo è in grande crescita, quello dell'abbandono scolastico, il tema della dispersione scolastica in Italia è altissimo, l'Italia è tra i primi paesi in Europa per dispersione scolastica e il tasso mi pare sia intorno ai 12%, è un fenomeno sicuramente complesso, anche qui le cause che lo scaturiscono sono molteplici, difficili da capire, però anche su questo bisogna lavorare. Bisogna lavorare perché questo sicuramente dobbiamo tener conto che va nella direzione del disagio, della paura del fallimento, all'interno di cui mettiamo 3 ogni 20 per fare un calcolo a spanne, 3 ragazzi ogni 20 ragazze che abbandonano gli studi, lì probabilmente troviamo dei ragazzi che hanno dei disagi, delle scarse capacità forse di far fronte a delle fatiche, piuttosto che alle spalle è una situazione magari molto difficoltosa per vari motivi, quindi sono ragazzi che già sicuramente ci stanno dicendo che un po' zoppicano. Certo, io credo che sia importantissimo oggi parlare di benessere psicologico, perché parliamo molto della nostra salute, quindi l'importanza di stare bene dal punto di vista fisico, però c'è anche il benessere mentale e facciamo un po' fatica a normalizzarlo, abbiamo ancora molto da fare da questo punto di vista, è ancora un po' un tabù il benessere psicologico, il benessere mentale? Sì, da un lato non è più un tabù andare in psicoterapia, perché tutto sommato ormai è stata ampiamente sdoganata questa cosa rispetto a non tantissimi anni fa, è un paradosso che sia un tabù il benessere psicologico, è vero che qualcuno dice ma io ho paura di essere preso come un folle, ma è anche vero che se parliamo di disagio psicologico, se parliamo di un momento di ansia, di preoccupazione, non c'è un essere umano, anzi non c'è un mammifero che non l'abbia provata, quindi dobbiamo pensare che questo appartiene a tutti, né più né meno come qualsiasi altro aspetto che sia corporeo, quello che viviamo a livello corporeo spesso è come se lo legittimassimo di più a noi stessi, l'aspetto del benessere psicologico come diceva lei è un pochino più riservato, si capisce sicuramente questa cosa, ma vista la situazione e la complicazione che stiamo vivendo a livello di comunicazione tra esseri umani, forse è il caso di provare a parlarne un po' di più. Oggi secondo me se ne parla un po' di più, è stato un po' sdoganato il tema del benessere psicologico, del benessere mentale, dell'importanza anche della psicoterapia, qualche passettino secondo me un po' in più anche dal punto di vista della comunicazione si sta facendo? Sicuramente sì, ma io credo già, credo di poter dire già negli ultimi vent'anni sicuramente vediamo dei passi in più, non so se siano sufficienti rispetto a quello che ci aspetta diciamo come andamento, speriamo anche di fare sempre il meglio possibile, ci sono anche tante nuove metodologie sia di prevenzione ma anche proprio di cura, è chiaro che prima prendiamo in mano il seme da cui può nascere un disagio e meglio è, quindi ben vengano tutti i corsi di prevenzione e tutto quello che si trova come offerta nel territorio io penso che sia estremamente utile. Quale deve essere il ruolo della psicoterapia? Per chi ha magari un disturbo psichiatrico, una psicopatologia ma anche per chi vuole approcciarsi magari a una psicoterapia per diverse problematiche? Ci sono delle richieste di tipo diverse, in questo momento assistiamo sia a chi arriva in psicoterapia perché desidera un approccio clinico e mirato sulla soluzione di un sintomo, quindi porta effettivamente un disturbo, ma anche molte persone che portano dei disagi generici che vanno attentamente presi in considerazione e che magari non rientrano in nessun sintomo o disturbo specifico, quelle sono situazioni un po' così di nodo da sciogliere, dilemmatiche diremo, ma che meritano altrettanta attenzione. La psicoterapia ha un ruolo che io vedo sempre più importante, non solo a livello di cura, la cura arriva dopo che c'è stato qualcosa, quando la persona comincia a segnalare che c'è qualcosa che non va, ma anche a livello proprio come si diceva prima di prevenzione e formazione, forse potremmo pensare proprio ad un'implementazione ulteriore di quanto già non sia sulla formazione, sul mettere a conoscenza le persone, maggiormente sul creare consapevolezza. L'approccio psicoterapeutico poi è quello che è dettato un pochino dall'esigenza del momento, abbiamo tante tecniche sia a livello cognitivista, ma non solo, la psicologia dinamica, le MDR e l'ipnosi clinica, abbiamo veramente molti trattamenti, abbiamo veramente una varietà di farmaci importanti che possono aiutare, la relazione, la rete con le famiglie, la rete di supporto per le persone è altrettanto importante. Come imposta lei l'approccio terapeutico? Questa è una domanda molto ampia, per prima cosa bisogna sintonizzarsi con la persona, come si dice sempre ai pazienti dopo magari la prima visita, il primo colloquio è importante che loro capiscano se c'è stata una sintonia e se è stato toccato il meccanismo sul quale lavorare. Dopodiché, creata un po' la sintonia, bisogna andare a vedere quello che è a 360 gradi il mondo della persona e poi da lì capire come lavorare sia sul sintomo, ma non è sufficiente, ma anche su tutto il pregresso in modo che non si crei più in futuro quel sintomo, perché andare a lavorare esclusivamente sul sintomo è un po' rischioso perché come comunico ai pazienti bisogna stare attenti che poi non risucceda, noi possiamo riportare le condizioni al punto zero, ma quel punto zero lì se ha prodotto un malessere deve essere ulteriormente migliorato e lì avviene tutto il percorso, a volte ci sono percorsi più brevi, a volte più lunghi, dipende, dipende da molti fattori, nella società del tutto e subito c'è a volte un po' di poca, scarsa tolleranza sul fatto che ci sono dei tempi emotivi per cui una persona può rielaborare le cose, ma è anche vero che la maggior parte delle persone poi comprendono che i tempi di guarigione, di comprensione e di produzione di qualcosa di nuovo dentro di noi sono complessi, perché l'essere umano è molto attaccato alla propria abitudine e al conosciuto, andare a cambiare dei costrutti e quindi dei modi di vedere il mondo non è una cosa semplice, non si fa in un minuto. Credo che l'importante e la cosa positiva sia il fatto che comunque le persone arrivino a lei a chiedere aiuto, quindi la presa di consapevolezza di avere un disagio e volerlo sciogliere, districare. Sicuramente, fin tanto che una persona che è consapevole di un proprio malessere riesce a chiedere qualcosa ad uno specialista, ma per carità anche ad altre figure che lo possono accompagnare siamo già in un buon punto. Quello che ci preoccupa un po' come categoria sono tutte le situazioni che non arrivano ad essere note e ahimè in alcune circostanze producono anche qualche situazione da cronaca nera. Ansia e stress, attacchi di panico sono in aumento nella sua visione, nella sua esperienza, dal suo osservatorio, dottore? Dal punto di vista numerico sicuramente sì, diciamo che ormai tendenzialmente questi disturbi tendono ad essere, si dice tecnicamente, incomorbidità, cioè non c'è una diagnosi ma ce ne sono diverse agganciate. Ansia, stress, attacchi di panico, disturbi del tono dell'umore e a volte si trattano anche altri disturbi, cioè somatizzazioni che non si esprimono propriamente da un punto di vista del pensiero, ma in modo più organico, ma sottendono magari altre questioni irrisolte. Noi siamo abituati a dividere il corpo umano per praticità in distretti, ma a volte dimentichiamo tutti come specialisti che il corpo umano funziona tutto insieme. Quindi una tensione che io posso avere per uno stress si potrà mutare facilmente in un disturbo fisico, ma che è dovuto a qualcosa che io interpreto come troppo difficoltoso per me. Siamo davvero in chiusura, lei ha parlato di disturbi del tono dell'umore, chiamiamoli così, abbiamo parlato spesso anche in puntate precedenti, andiamo verso una stagione, quella dell'autunno e poi ancora ci saranno le feste di Natale, che per chi ha qualche pensiero non sono proprio dei periodi piacevoli dell'anno, un consiglio veloce per poterli affrontare nel migliore dei modi. Allora stiamo andando incontro alla stagione del disturbo affettivo stagionale, che una volta chiamavamo la depressione stagionale. Se sono persone che già sanno di avere questo tipo di sensibilità è bene che si premoniscano, magari rifacendosi supportare al terapeuta, riprendendo il farmaco che magari già prendevano, piuttosto che altre azioni, mobilitando il medico di medicina generale o la rete intorno a loro, perché se conosciamo una nostra tendenza è meglio fare qualcosa prima. Sotto Natale chiaramente evitare un po' la solitudine, le situazioni di isolamento, perché il Natale tocca sempre tematiche importanti di noi stessi, del passato, della nostra appartenenza familiare. Sicuramente è un tema che riaffronteremo. Grazie al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, grazie, è chiaro come sempre, nelle sue esposizioni. Grazie, grazie a voi per averci seguito da casa, ad Italo Morao e Alberto Pivetta in regia, vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.